Perché crediamo che dobbiamo stare tra i problemi per ridurre le disuguaglianze e risolvere le complessità del nostro tempo. Lo facciamo in un contesto europeo perché siamo convinti che non si possono risolvere i problemi del nostro tempo con singole e piccole soluzioni, ma le soluzioni devono essere comunitarie, europee e lo dobbiamo fare rafforzando la democrazia, chiedendo ai giovani di non essere solo bravi studenti ma anche buoni cittadini e investendo fortemente nella lotta alle disuguaglianze. È l'unico metodo per non avere crisi economiche che sfociano i nazionalismi. Siamo orgogliosi di avere un toscano che riesce a davvero portare e condividere queste riflessioni importanti che sicuramente anche stamani porterà su questo palco. Lascio la parola e lo accogliamo tutti con un grande applauso a Stefano Massini, scrittore e narratore. Accidenti, quindi lei diventò Gandhi quel giorno così presto? Gandhi lo guardò il giornalista e gli disse così presto? E disse ma perché mi scusi? Quando avrei dovuto sentirla io la mia sveglia? Se non quando ero un ragazzo, se non quando avevo vent'anni. Quando avrei dovuto sentirla questa sveglia? Dopo sarebbe stato tardi. La sveglia, aggiunse Gandhi, deve suonare quando di anni ne hai venti. Anzi, aggiunse, meglio ancora se suona quando ne hai quindici, quando ne hai quattordici, quando ne hai dieci. Al teatro Nicolini proviamo a raccontare qualcosa sulla... non sulla condizione, perché di solito si usa sempre questa espressione, è un po' stereotipata, un po' brutta, la condizione giovanile. Forse bisognerebbe parlare di un'altra cosa, della posizione, cioè di dove li collochiamo, di dove stanno. Se stanno nel futuro non stanno nel presente, per cui comodamente è come se fossero in un'eterna sala d'aspetto, in un'eterna, diciamo, zona in cui in un'eterna sala d'attesa, invece il presente è fatto di persone che in questo momento dicono noi siamo il presente e il futuro lo costruiamo adesso. Ha colpito negli anni scorsi, credo, ha colpito tutto il caso di Greta Thunberg, no? Ha colpito perché il caso Thunberg è il caso di una ragazzina che dice il futuro è mio, lo vivrò io, ma lo devo costruire adesso, quindi mi fate la cortesia di darmi tutta l'attenzione necessaria, perché io è adesso che pongo le basi del futuro. Ecco, così come il ruolo di Greta Thunberg è stato basilare sul ruolo del clima, così credo che ci siano altri aspetti da trattare, il tema dei diritti, il tema della cultura, il tema di tutto quello che è la costruzione del domani che però deve essere assemblato oggi. Grazie.